Le relazioni. Edoardo De Filippo diceva una cosa straordinaria, che non basta essere padre, non basta avere un figlio, non basta avere un padre. Un padre biologico, un padre fisico, deve farsi padre. Due fratelli di sangue devono diventare fratelli. Che cosa credo intendesse Edoardo? Che dobbiamo lavorare per aprirci agli altri, anche quando c'è una relazione di parentela, anche quando c'è un legame di sangue. Non è questo legame di sangue che fa di un genitore un genitore, di un figlio, di due fratelli, due fratelli. In un certo senso queste categorie sono delle gabbie che rischiano di imprigionarci, rischiano di imprigionarci in delle funzioni stabilite da altri. Il figlio deve avere una certa funzione nei confronti dei genitori, i due fratelli devono avere un certo tipo di rapporto. Invece occorre un grande lavoro personale di apertura all'altro, di comprensione e di reciproco perdono, per diventare padri, figli, fratelli, sorelle, amici, non per un dato di fatto, ma per una scelta umana di incontro con l'altro. Sogno, bugia, fantasia, ma direi anche speranza, hanno questo in comune. Che non accettano la realtà così com'è, vogliono qualcosa di più bello dalla realtà. La bugia, la fantasia sono un modo per inventare mondi, per inventare situazioni diverse, per inventare un'immagine di sé che ci dia più piacere, che soddisfi di più noi stessi. In un certo senso quindi tutte queste realtà che vogliono un possibile, che immaginano qualcosa di nuovo, sono positive, perché sognare, avere fantasia, avere la speranza in un mondo migliore, in una situazione tra le persone migliori, sono qualcosa di positivo. Il problema è quando sogno e bugia rappresentano solo una fuga dalla realtà, un non voler prendere parte nella realtà. E allora si trasformano in illusione e questo può essere pericoloso perché illuderci di non essere la persona che siamo, illuderci che gli altri ci guardino come vogliamo essere guardati, può essere appunto pericoloso perché ci toglie dalle relazioni e ci lascia da soli. Per me un giorno di festa è un giorno di incontro, cioè quando abbiamo un tempo gratis, un tempo libero, un tempo senza incombenze materiali, senza doveri e in questo tempo in cui in qualche modo saltano tutti i ruoli, ci incontriamo solo come partecipanti, a una festa è possibile incontrare un altro essere umano. In fondo la festa è stare insieme, non essere da soli, condividere delle cose. Ecco per me un giorno di festa è un giorno in cui ci si incontra. Grazie. 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 Grazie.